ciao io sono alessandra e ho conosciuto massimo il suo studio circa due anni fa in occasione di un grande cambiamento della mia vita e di lì a poco tra l'altro in occasione di una fase molto delicata che quella della gravidanza la prima gravidanza e mi sono proprio lasciata coinvolgere dallo shatsu nel senso che in una fase così delicata dove acciacchi fisici ma anche una pressione psicologica e mentale possono essere importanti massimo è stata la persona che è riuscita ad aiutarmi a sforaggiare il tutto a capirmi nel profondo e anche ad aggiustare quei cambiamenti enormi che vengono nel corpo di una donna durante quei nove mesi di gravidanza e devo dire che ho tratto grandissimi benefici sia dal punto di vista fisico per la pesantezza che porta la pancia e quindi tutto quello che può competere ma anche a livello mentale e psicologico per affrontare al meglio un momento magico per la donna ma anche per la famiglia tuttora mi affido ai suoi trattamenti trattamenti di massimo per la quotidianità perché comunque ognuno di noi si trova nel corso dei mesi e delle spingioni ad andare in difficoltà con un ginocchio piuttosto che una camiglia piuttosto che il tuo nerve carpale la schiena banalmente e piccole magari cose più o meno grandi che si riflette però anche su pensieri che quotidianamente facciamo a volte siamo abbastanza consapevoli dei pensieri che facciamo altre volte più difficile captare nel profondo dove andiamo a parare e quindi ecco che massimo mi ha dato un grandissimo supporto non solo appunto nello sciogliere questi questi nodi fisici ma anche per capire più profondità a cosa fossero legati e quindi lo ringrazio per tutti gli ottimi spunti di riflessione che è riuscito a darmi e che mi dà e per i grandi benefici che ne ho ottenuto per vivere la mia vita in maniera più equilibrata possibile per me stessa per la mia bambina ma anche per le persone che mi chiami e quindi grazie a massimo e grazie allo sciazzo grazie a tutti grazie a tutti